Un grande giorno per il comune di Laterina dove proprio qui nella sede del Consiglio Comunale è stata ricevuta la nazionale femminile di tiro e volo che si appresta a partire per Parigi in vista delle prossime Olimpiadi. Andrea Benelli, un nome, una garanzia alla storia di questo sport il commissario tecnico, intanto quali sono le prospettive? Le prospettive sono buone pur nella consapevolezza che sarà una gara come sempre molto difficile Noi siamo, come a livello di squadra, sia maschile e femminile tra le più forti del mondo lo sappiamo, ma non siamo gli unici. Abbiamo tanti paesi e si presenteranno chiaramente come noi al massimo delle loro possibilità a Parigi e quindi sarà dura, ma siamo consapevoli e possiamo fare bene Quando partiamo, tutte le volte che partiamo per un'Olimpiade, io personalmente a Parigi farò la decima Olimpiade consecutiva fra atleta e direttore tecnico, sentiamo la responsabilità del nostro comitato olimpico e da noi si aspetta medaglia Quando fanno le previsioni di medaglie, il tiro a volo è sempre inserito dentro quindi bello, ma di grossa responsabilità E quindi, come diceva Andrea Benelli, lo sport italiano deve molto a questa disciplina sportiva Allora, prima di salutarvi, andiamo a presentare gli altri protagonisti dello staff, i componenti dello staff tecnico dell'anzionale di tiro a volo Lei? Il suo nome? Fabio Bartigiani Il suo ruolo? Preparatore atletico Simona Scocchetti Dove sei? Tarquinia Martina Bartolomei e sono di Laterino Martina Maruzzo di Vicenza Ciara di Marzia Antonio di Cerveteri Bacosi Diana di Cetona E come si dice, in bocca al lupo Grazie Grazie Grazie